Trovati i pastai, eccoci qui con una nuova video ricetta. Abbiamo fatto dei fantastici rigatoni fatto a mano conditi con robiola, peperoni, guanciale croccante. Mi raccomando iscrivetevi qui sotto al canale e mettete un bel pollicione. Andiamo con la ricetta e Impasta con Stefano è sempre con voi. Andiamo! Prendi i peperoni giallo e rosso Ed ora li faremo a cubetti piccoli. Piccoli cubettini Uno spicchio d'aglio Olio extravergine d'oliva Aggiungiamo i peperoni, cioè gli arrossi E facciamo rosolare Un pizzico di sale I peperoni sono pronti E mettiamo da parte Padella Tre fette di guanciale Lo facciamo rosolare per bene In modo da farlo diventare bello croccante Eccolo E' bello croccante E lo mettiamo da parte Mettiamo a bollire l'acqua Un mestolo d'acqua Ed ora mettiamo Già la nostra robiola, guardate Facciamo sciogliere per bene L'acqua bolle L'acqua bolle Aggiungiamo il sale grosso E aggiungiamo i nostri rigatoni Fatti a mano Guardate Vi lascio il link in descrizione Per la ricetta e il video Di questi fantastici rigatoni Mettiamo i rigatoni fatti a mano E li facciamo cuocere Almeno 6 minuti Sono pronti Guardate E li andiamo ad aggiungere Alla nostra crema Alla robiola Aggiungiamo i peperoni E andiamo a tirare Aggiungiamo i peperoni Aggiungiamo i peperoni Aggiungiamo i peperoni Aggiungiamo i peperoni